buongiorno amici draghetti buongiorno amici voi non sapete neanche dove mi trovo non ridete per questo cappello l'indiana jones perché marco che quota siamo avete capito 1725 ma tese già avete capito giornata storica giornata storica in quanto vedete al mio tra le mie spalle eccoli i campanari amici circo glaciale ce l'ho fatta ce l'ho fatto ragazzi sole che spacca e quindi abbiamo dovuto metterci il berretto da play da cowboy no da playboy scusa a cowboy e ve lo consiglio oltre a una buona crema solare dopo di che vi consiglio anche di essere molto prudenti tra poco vedete qua ragazzi un panorama spettacolare la via lente cerca di rendere adesso farò reverse poi tra poco mi vedrete sulla guglia sulla guglia ci sta chi va appositano dove positano non sto scherzando è la verità e noi positeremo anno positano su questi campanari e vi dimostreremo che il molise è anche questo dopo questa parentesi scherzosa marco saluta sembra marcus brodi vi ricordate indiana jones marcus bro forte a dopo dove ci troviamo in questo momento siamo arrivati al primo campanarello campanello di monte eccolo qua eccolo qua guardatelo guardatelo 1650 e questo invece la valle del valle del fondacone guardate che ghiacciaio è spettacolare guardatelo su 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 monteviletto non lo vediamo più perché siamo sotto eccoci qua come promesso adesso faremo pausa melone frutta secca sul campanarello e sotto c'è il campanarello di valle dal quale poi dovremo scendere per guadagnare le valle secche ossia campitello di rocca mandolfi di questi sono pazzi qui sotto vedete tutto il molise ed è visto come promesso ci vediamo dopo in diretta ci siamo riusciti dal campanarello di di monte ecco marco ci illustra ragazzi qua siamo a quota 1650 1650 questo è il ballone che mi trovo sotto di me il fondacone eccolo qua ragazzi venite i molise guardate che parete spettacolare tutto questo era un ghiacciaio però ragazzi la telecamera non rende dovreste vivere queste cose quindi noi siamo scesi da la eccoci qua ragazzi ce l'ho fatta sono arrivato sul campanarello di monte in diretta dal campanarello di monte vi saluto adesso mangio qualcosa perché ho bisogno di mangiare qualcosa e poi vi vedete sì e poi andiamo su quello di valle speriamo e poi cerchiamo di guadagnare casa a dopo saluto marco ciao 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 ciao